Ma chiamo Madboiselli, è con il più grande onore e grandissimo piacere che le diamo il benvenuto. Ed ora la invitiamo a rilassarsi, accomodiamoci a tavola dove la sala da pranzo con orgoglio le presenta la trina. Stia con noi, qui con noi, si rilassi d'ora in poi, leghi al collo il tovagliolo, poi faremo tutto noi. Sopp tu giù, antipasti, noi viviamo per servir, provi il polo, è stupendo, non mi crede, chieda il piatto. Vive l'amore, vive la danse, dopo tutto miss, c'è la France, è una cena qui da noi, c'è fantastico. Lei prenda il menù, gli dia uno guarda su, poi stia con noi, si con noi, qui con noi.